Intro Politica Vox Eruzioni simultanee dell'Etna e dello Stromboli. Due giganti della natura si sono risvegliati insieme a luglio, creando un doppio spettacolo di lava e fumo in Sicilia. Tra bellezza e pericolo, l'Italia ha assistito a un evento raro. 2. Scoperta archeologica a Roma. Sotto San Giovanni in Laterano, gli archeologi hanno trovato i resti di un antico palazzo papale. Roma non smette mai di sorprenderci con i suoi tesori nascosti. 3. Appia antica, riconosciuta dall'UNESCO. La regina Viarum è finalmente patrimonio dell'umanità, un riconoscimento importante per una delle strade più famose della storia romana. 4. Maggiore autonomia per le regioni. Una legge storica, approvata a giugno 2024, ha concesso più autonomia alle regioni italiane. Una svolta che ha diviso il dibattito politico nazionale. 5. Blitz contro la pirateria videoludica. 47 milioni di euro di giochi pirata sequestrati in tutta Italia. La guardia di finanza ha colpito duro, ma il tema divide gli appassionati di retro gaming. 6. Divieto di maternità surrogata anche all'estero. L'Italia rafforza il divieto. Scatenando un acceso dibattito tra chi lo considera un passo avanti e chi lo ritiene una limitazione delle libertà personali. 7. Migranti e accordo con l'Albania. Un nuovo accordo tra Italia e Albania cambia la gestione dei flussi migratori. Una decisione che ha fatto discutere sia in Italia che oltre confine. 8. Incidente Ryanair a Brindisi. Un volo ha preso fuoco durante il rullaggio. Fortunatamente tutti i passeggeri sono stati evacuati, ma l'incidente ha messo in luce nuovi problemi di sicurezza aerea. 9. Sciopero nazionale dei trasporti. L'Italia si è fermata per un giorno intero, mettendo a dura prova i pendolari. Lo sciopero ha riaperto il dibattito sulle condizioni dei lavoratori del settore pubblico. 10. Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria. Risultati sorprendenti e nuove sfide all'orizzonte per il panorama politico italiano. Queste elezioni segnano un momento cruciale per il futuro del paese. E con questo la nave politica Vox attracca il porto del Pirata RB. C'è una quale notizia vi ha colpito di più? Scrivetelo nei commenti e ricordate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere questo video con tutti i vostri amici. Se volete approfondire questi argomenti fate un salto sul nostro blog. Trovate il link in descrizione. Dal vostro Pirata RB vi saluto con il nostro motto Buon Vento. Ciurma, alla prossima avventura.